Punto nascita a Iglesias, reparto sicuro al 100%, così si è espresso oggi il commissario straordinario della ASO 7, Antonio Onnis, che ha rassicurato le partorienti sui requisiti garantiti dall'ospedale CTO di Iglesias. Consiglio comunale di Carbonia in regione, domani si svolgerà un consiglio comunale straordinario davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità. È previsto anche un incontro con l'assessore Arru per protestare contro il trasferimento del punto nascite. Rapina circolo di Gonnesa, arrestato ultimo componente della banda, si tratta di Sabrina Cardia, classe 1987. È stata arrestata per il reato di rapina insieme ad altre 5 persone che il 5 marzo 2015 presero d'assalto un circolo privato di Gonnesa. Caldo torrido nel Sulcis, tra oggi e domani le temperature toccheranno picchi di 34-35 gradi. Si tratta di un caldo africano, anomalo, accompagnato dal vento di scirocco e da un tasso di umidità elevato. Ma da giovedì torna il maestrale. Ben ritrovati su Canale 40. In apertura del nostro telegiornale il trasferimento del punto nascita del reparto di ginecologia e di Osteretricia dall'ospedale Sirai all'ospedale CTO di Iglesias. Come avete saputo questo tipo di trasferimento ha suscitato un vero e proprio polverone, come per esempio il Consiglio Comunale straordinario che si è svolto ieri e la protesta da parte delle future mamme. Ebbene, su questi argomenti però oggi abbiamo ascoltato il commissario straordinario dell'AS7, Antonio Onnis, che ha messo in evidenza l'altra faccia della medaglia. Sentiamo. Dottor Onnis, non possiamo non parlare con lei del trasferimento del reparto di ginecologia e ostetricia dall'ospedale Sirai di Carbonia al CTO di Iglesias. Sono tante le polemiche che si sono sollevate in questi giorni. Però diceva lei che invece ci sono tanti punti luce da poter mettere in risalto in questa situazione. Per esempio quali? Io ho detto e continuo a dire che il percorso è un percorso di miglioramento dell'assistenza alle donne e ai bambini che devono nascere. Donne e bambini che affrontano teoricamente un parto normale e fisiologico, che laddove abbiano esigenze di un'assistenza in urgenza hanno la possibilità di avere l'assistenza in urgenza, con la presenza permanente di un ginecologo, di un'ostetica, permanente in ospedale dico, di un anestesista, presenza o pronta disponibilità di un chirurgo laddove sia il caso di intervenire, con gli approvvigionamenti e la disponibilità del sangue in caso di necessità di trasfusioni, con la possibilità di tutte quelle indagini diagnostiche, TAC, risonanza che possono essere necessarie. Questa è la situazione. Allora mi viene difficile pensare che la Regione Sardegna avrebbe potuto avvallare questo progetto di trasferimento se fossero mancati i requisiti di sicurezza. Ecco le due principali critiche che vengono fatte a questo tipo di progetto di trasferimento sono queste. Una è che il CTO sarebbe sprovvisto di cardiologia, centro trasfusionale e rianimazione. L'altro invece è di ordine diciamo logistico perché le donne del Basso Sulcis, mi riferisco a Narcao, Sant'Adi, Nugis, dovrebbero comunque percorrere, fare un percorso decisamente più lungo per arrivare sino a Iglesias. Come risponde a questi due ordini di critiche? Rispondo che il problema della distanza e dei percorsi da fare mi sembra un falso problema. Dal momento che una donna su quattro, secondo i nostri ultimi dati, una donna su quattro va a partorire a Cagliari e va a partorire a Cagliari perché ha la percezione che a Cagliari ha un'assistenza migliore evidentemente di quanto non possa fruire qui perché a Cagliari può fare il parto in dolore, può avere la parto analgesia, cosa che non riusciamo ad assicurare qui. Io credo che noi dovremmo lanciare il messaggio che il punto nascita di questa azienda viene ubicato nel luogo logisticamente più adatto in questo momento, viene gestito in sicurezza, che le donne possono fidarsi di essere presi in carico, che abbiamo un nuovo primario di grandissima esperienza che può assicurargli, fa bisogno di assistenza di cui hanno bisogno, che non esiste il problema della necessità di un centro trasfusionale, anche qui ci dobbiamo parlare chiaro, non è indispensabile un centro trasfusionale, è indispensabile il sangue e il sangue c'è disponibile. Il problema, non facciamo confusione tra il poter fare un prelievo per avere degli esami di sangue e la presenza di un laboratorio di analisi, sono due cose diverse. Noi facciamo dei prelievi di sangue qui o facciamo dei prelievi in corso di interventi chirurgici, chissà dove vengono fatti gli esami? A Bologna. Quindi il problema non è avere qui il laboratorio che mi fa quegli esami, il problema è poter fare qui i prelievi, poter avere la possibilità di avere dei dati sicuri e dati più sicuri nella caratterizzazione di un tumore per un intervento chirurgico li fa un laboratorio di Bologna. Dov'è il problema? Noi potremmo avere un laboratorio di analisi a Sant'Anna Resi, al servizio degli ospedali di Carbonia e di Iglesias, potremmo avere un laboratorio di analisi a Sassari. Dov'è il problema? Quello che serve è poter fare qui dei prelievi, poter avere i risultati in tempo reale e poter avere dei risultati di buona qualità sugli esami. Ecco, io credo che dovremmo ragionare in questi termini. E intanto domani a Cagliari è previsto un Consiglio Comunale Straordinario di Carbonia per protestare nei confronti di questo trasferimento. Il Consiglio Comunale Straordinario di Carbonia si svolgerà presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità. Sentiamo i particolari nel servizio. È stato convocato per la giornata di mercoledì 26 ottobre un Consiglio Comunale Straordinario di Carbonia che si svolgerà a Cagliari in via Roma 223 presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità. È prevista la manifestazione contro il trasferimento dei reparti di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Sirai di Carbonia al CTO di Iglesias. Si tratta del secondo Consiglio Straordinario organizzato nel giro di pochi giorni. Nella giornata di ieri infatti numerosi politici locali si sono riuniti in mobilitazione davanti all'Ospedale Sirai. Un Consiglio Comunale che però non ha sortito gli effetti sperati dato che in una conferenza stampa il commissario straordinario della Azz 7 ha ufficializzato il trasferimento del punto nascite al CTO definendone anche i dettagli. Ma intanto il Movimento 5 Stelle di Carbonia in una nota diramata su Facebook fa sapere che la battaglia per il mantenimento di questi reparti essenziali è appena cominciata. Sappiano i manager che la città di Carbonia non si arrende, sappiano in regione, si legge ancora nella nota, che domani 26 ottobre in funzione dell'esito del colloquio con l'assessore Arru, il Consiglio Comunale di Carbonia da tutte le parti politiche rappresentato sarà nuovamente convocato a Cagliari presso la sede dell'assessorata alla sanità e potrebbe finalizzare con l'occupazione pacifica dello stesso. E' ora che i cittadini riprendano il controllo dei servizi, tutti che gli spettano e per i quali contribuiscono con le proprie tasche, affermano gli amministratori del Movimento 5 Stelle cittadino. E' ora che le decisioni in merito alla riorganizzazione dei servizi non vengano più affidate a pochi elitari uomini d'affari, è ora che siano i cittadini ad avere voce in capitolo, si legge appunto nella nota del Movimento 5 Stelle cittadino. E ora cambiamo argomento e parliamo della Porto Vesme SRL perché sembra quasi indirittura d'arrivo l'autorizzazione che consentirà alla Porto Vesme SRL di realizzare il non anello della discarica di Genna Luas. E' prevista una delibera da parte della Giunta regionale nel corso della settimana ma vediamo i particolari in questo servizio. L'assessorato regionale all'ambiente ha confermato che il processo di autorizzazione del nono argine della discarica di Genna Luas di fatto è stato completato. Infatti gli uffici preposti sono in procinto di terminare l'esame della documentazione prodotta e delle relative verifiche per cui entro questa settimana l'approvazione dovrebbe essere trasmessa alla Giunta regionale che a quel punto provvederà alla definizione dell'apposita delibera. L'autorizzazione alla realizzazione del nono argine è fondamentale per la Porto Vesme SRL la quale potrà in questo modo continuare la produzione che altrimenti sarebbe stata messa a rischio e con essa tutti i posti di lavoro collegati. Più lungo e complicato come da previsione peraltro l'iter di autorizzazione per la realizzazione di una nuova discarica. A questo riguardo ci sarebbero problemi normativi che non sono originati dall'assessorato regionale all'ambiente ma anche da altri soggetti come per esempio i comuni e altri assessorati. Apriamo il secondo blocco del nostro telegiornale con la cronaca. È stata arrestata l'ultima componente della banda che il 5 marzo 2015 ha preso d'assalto un circolo privato di Gonesa. Si tratta di una ragazza di Villa Massargia, il suo nome è quello di Sabrina Cardia. Vediamo i particolari in questo servizio. È stato eseguito l'ultimo arresto, esattamente il sesto, per la rapina avvenuta nel marzo 2015 in un circolo privato di Gonesa. I carabinieri della stazione locale di Gonesa hanno arrestato per il reato di rapina in concorso una ragazza di Villa Massargia. Si tratta di Sabrina Cardia, classe 1987, la quale aveva già all'attivo alcuni precedenti penali. La ragazza ha patteggiato due anni e tre mesi di reclusione e dovrà pagare anche una multa di 800 euro. L'arrestata, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso la casa circondariale Ettore Scalas di Uta. Sabrina Cardia è l'ultima componente della banda che il 5 marzo 2015 ha preso d'assalto il circolo privato BIC di Via Mazzini numero 34 a Gonesa. Questa è la dinamica dei fatti emersa dalle indagini dei carabinieri di Gonesa e di Glesias. Tre dei sei malviventi si erano presentati armati con tute mimetiche e passamontagna in un circolo privato gonnesino e dopo aver immobilizzato il gestore e un suo amico, sotto la minaccia delle armi si erano fatti consegnare l'incasso della serata che si trovava in un cassetto dentro il banco bar e con tanti contenuti nella macchina cambiamonete. Oltre a Sabrina Cardia, sabato scorso erano state arrestate 5 persone, Marco Garifo, trentenne di Gonesa, Salvatore Gessa, operaio di Domusnovas classe 1989, Dino Gessa, operaio classe 1986 di Domusnovas, Francesco Monni, operaio di Gonesa classe 1988 e Stefano Tatti, pizzaiolo trentunenne di Gonesa. E ora parliamo di prodotti difettosi e proviamo con il contributo del segretario territoriale della Di Consumo, Giancarlo Cancedda, a dare alcune raccomandazioni in merito alle garanzie da richiedere al venditore. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato. Giancarlo Cancedda, quali raccomandazioni possiamo dare ai consumatori per quanto riguarda la garanzia dei prodotti nuovi e dei prodotti usati? Dunque dobbiamo sapere che esiste una legge, il codice del consumo del 2005, che tutela e sancisce chiaramente i diritti dei cittadini. Allora, i prodotti nuovi hanno una garanzia legale di due anni, i prodotti usati una garanzia obbligatoria di un anno. La garanzia legale di due anni dei prodotti nuovi comprende tutti i difetti di conformità. Se un prodotto dovesse guastarsi, entro i sei mesi si presume che già sia uscito guasto. Quel che io voglio precisare in questo momento è che ricordatevi che l'unico interlocutore responsabile è il venditore. Quindi quando si ha un difetto nel prodotto acquistato dobbiamo rivolgere al venditore perché è lui che deve impegnarsi di mandare il prodotto in garanzia presso le officine autorizzate, presso i centri di assistenza. Non noi. Noi possiamo farlo solo per pura cortesia e debbono restituirci il prodotto entro breve termine perché il prodotto evidentemente se lo acquistiamo ci serve da usare. Quindi attenzione nel rispetto alle garanzie. 24 mesi estendibili a 26 qualora il guasto avvenga all'ultimo mese. Quindi due mesi di tempo per denunciare il guasto. E un'altra cosa, dobbiamo stare molto attenti, quando ci vendono un prodotto nuovo ci propongono sempre un supplemento di garanzia. Quindi magari arriviamo dal tizio e ci dice guarda se lo vuoi garantito 5 anni devi aggiungere 100-200 euro quel che sarà. Può dare che sia un'ultima proposta ma attenzione non sono 5 anni, sono 3 perché due già meridevi obbligatori. E comunque chiedere sempre un dei piante dove specificatamente ci sia chiarito qual è la parte garantita, come e quando. Perché spesso troviamo delle sorprese. Questo non è previsto, questo non è previsto. Quindi prima è sottoscrivere il contratto, leggere, pretendere uno scritto dove ci sono tutte le garanzie. Per l'usato la garanzia è di un anno. Ma attenzione se chi vende il mezzo non ci avvisa, guarda chi ha diritto un anno, va a due anni. E anche in questo caso il responsabile è colui che vende il mezzo. Perché quando uno vende un'automobile usata ci fanno firmare dei contratti con delle assicurazioni, quindi enti terzi. C'è un guasto? Rivolgeti a loro. Assolutamente no. È sempre chi vende, è sempre chi vende all'obbligo di fornirci dettagliatamente tutte le parti garantite, per quanto tempo, un caso di usura o meno. E comunque ne deve rispondere in primis. Quando ci sono problemi, avvisare sempre chi vende tramite la raccomandata con ricevuta di ritorno, pretendere una risposta in tempi certi. Qualora la risposta non sia soddisfacente o ci sia un deniego, ricordatevi che i legali hanno pienamente diritto e le armi per tutelarci attraverso il codice del consumo. Parliamo del meteo, temperature decisamente al di sopra della media che toccheranno anche picchi di 34 e 35 gradi nel corso della giornata odierna e nella giornata di domani. Ma attenzione perché da giovedì tornerà il maestrale. Sentiamo. Nel sulci siglesiente l'autunno sembra non essere ancora cominciato. Tra oggi e domani le temperature toccheranno i 34-35 gradi. Si tratta di un caldo africano anomalo accompagnato dal vento di scirocco e da un tasso di umidità elevato. Non a caso in questi ultimi giorni diversi cittadini hanno riempito le spiagge dell'isola. A Portopino domenica scorsa erano circa 200 le persone presenti, centinaia anche nelle spiagge del litorale di Sant'Antioco e Calasetta. Ma attenzione perché dopo questi due giorni di fuoco da giovedì entrerà il maestrale e si registrerà un abbassamento delle temperature facendole tornare in linea con le medie stagionali. Un dato è certo i primi nove mesi dell'anno 2016 sono stati più torridi in assoluto. Il 2016 è stato infatti l'anno più caldo dal 1890 ad oggi. È in atto un surriscaldamento della terra, un aumento dell'effetto serra e dell'anidride carbonica. Bentornati in studio per la terza parte del nostro telegiornale, quest'oggi dedicata interamente agli appuntamenti. Giovedì 27 ottobre alle 19 a Iglesias si terrà il prossimo incontro della scuola civica di storia al Teatro Electra. Il dottor Sebastiano Forteleoni terrà una conversazione intitolata L'ufficiale e la prostituta un tragico incontro. Commento musicale al pianoforte a cura del maestro Marcello Melis. È prevista la partecipazione di Luis e Karen Signoretti, ballerini di tango argentino. E continuiamo con gli appuntamenti. Lunedì 31 ottobre in piazza Marconi a Narcao. È in programma la castagnata, Castangiasas posisanimeddas. Il programma prevede dalle 11 animazione e tanto divertimento per i più piccoli e dalle 18 a 30 musica con il concerto dei Mollis Chamber. L'evento è organizzato dall'associazione culturale Nulucadu. Dal 29 al 30 ottobre 2016 in piazza Conte Ugolino della Gerardesca a Iglesias si terrà la quarta edizione di autunno in fiera. Il programma comincerà il 29 ottobre. Alle 19 è previsto uno spettacolo di danza a cura delle Millis Angels e alle 19.30 un piccolo ristoro per visitatori e pellegrini con prodotti tipici. Il giorno dopo, domenica 30 ottobre 2016, alle 11 e alle 17 si svolgeranno spettacoli di animazione per bambini, truccabimbi, palloncini, giocolieri con Mr. Balloon. Alle 19 ci sarà la quarta edizione della Corridona e alle 19.30 la Castagnata. Bene, con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale odierno. Ora vi lasciamo al meteo e al telegiornale in lingua sarda Noas in Curzu condotto da Giovanna De Sì. Grazie e arrivederci. Previsioni per mercoledì 26 ottobre. Molto nuvoloso coperto. Vento da nord-nord-ovest con intensità di 7 km orari. Raffiche fino a 18 km orari. Temperature minime comprese tra 17 e 21 gradi e massime comprese tra 24 e 30 gradi.